Il rumore proveniente dalla centrale elettrica è insopportabile. Lo dico una gran voce, ormai da tempo, i residenti di Carrara che sono esasperati dopo una petizione depositata in comune, gli incontri con Terna che ha presentato il piano di interventi per la riduzione delle emissioni, sono iniziate le rilevazioni da parte di ARPAM, un'attività che però aumenta i dubbi e le contestazioni. Le ultime rilevazioni sono state fatte da ARPAM nella giornata di ieri tra le 18 e le 19 con macchinario a detta di Terna acceso, poi di nuovo dalle 19 e 30 alle 20 e 30 con macchinario spento, sempre a detta di Terna e poi nuovamente tra le 10 e le 11 di sera, quindi tra le 22 e le 23 di sera, ma anche in quella situazione macchinario acceso, sì effettivamente era acceso ma ai livelli minimi, noi abbiamo conosciuto livelli decisamente superiori e questo Terna durante la riunione del 27 luglio si era riproposta di fare, ovvero fare le rilevazioni con il macchinario in condizioni normali di utilizzo. Le condizioni normali di utilizzo non sono quelle che sono state poste ieri, si era acceso perché non può essere spento un macchinario del genere che favorisce il passaggio di corrente elettrica a livello nazionale, però non mi può dire che era ai livelli in cui l'abbiamo sentito in tutti questi mesi da quando è stato messo a dicembre scorso. Ed ecco la differenza, queste sono le emissioni acustiche provenienti dalla centrale elettrica registrate dai residenti il 27 luglio scorso. Mentre queste, quelle di ieri, durante le rilevazioni eseguite da Arpam. Alle 22 e 30 poi si è sentito un leggero aumento. Ecco, ma voi avevate chiesto l'intervento di Arpam già i mesi scorsi? Già dai mesi scorsi avevamo fatto una petizione al sindaco, avevamo fatto degli esposti. A questo non abbiamo avuto risposta, o meglio, non abbiamo avuto risposta dell'attivazione di Arpam, perché in realtà il Comune ha affidato a Terna il controllo di se stessa, quindi anche questa cosa. Ed è una cosa che il Comune non fa per altre soluzioni, per altre problematiche, perché in un caso analogo di inquinamento acustico Arpam è stata attivata. Quindi perché due pesi e due misure in questo caso, dopo che per mesi abbiamo lamentato questo problema, questa qualità della vita che è decisamente diminuita nella frazione di Carrara. Quali sono ad oggi le vostre richieste? Le nostre richieste sono dei controlli precisi, puntuali, non fatti con un po' di approssimazione. Noi che siamo residenti ci siamo accorti di questo rumore, che persiste sempre, seppur minimo. Quindi il macchinario non è mai spento. Io la centrale l'ho vista da quando sono nata, mia madre l'ha vista costruire quella centrale. Quindi la conosciamo nei minimi dettagli, che ci vengono a dire che un macchinario è spento, non è vero, si sente il rumore e si sente fino a tre chilometri di distanza. Quindi dirci che il macchinario è spento, non ci crediamo.